Pandora avrebbe voluto dimenticarsi quel vaso, il dono di Zeus, ma i suoi occhi non sapevano come fare, le mani con una carezza lo aprirono e tutto si rovesciò senza salvezza, quasi. E anche Pandora, le storie del vaso è rientrata dalle vacanze, ben ritrovati Fox, sono sempre io Barbara Favaro e mi auguro che questa estate sia stata buona con voi, nonostante tutto quel che succede nel mondo. Questo è il nostro terzo appuntamento mensile con le storie del vaso di Pandora e penso sia già un bel risultato. Un'ulteriore prova che il team di Pandora è vincente l'abbiamo però avuta dal vivo durante il reading di debutto del 22 giugno scorso. La piazza di Cisano, un delizioso paesino del nostro lago di Garda, grazie alla biblioteca e al comune di San Felice del Benaco ci ha accolto con applausi, sorrisi e qualche moto di commozione. Le donne di Pandora con me in questa avventura dal vivo sono state Carmela Bortolotti, Francesca Garioni, Francesca Martinelli, Paola Raggi e Lina Coppola. Carmela e Francesca Martinelli già le conoscete e se non le conoscete potete recuperare le prime due puntate di Pandora e vedrete di cosa sono capaci, mentre per le altre signore che ho citato dovrete aspettare i prossimi mesi. I musicisti che hanno suonato alla nostra lettura sono stati Aligi Colombi, alle percussioni, anche ai suoni sparsi e Gustavo Patanciona alla chitarra e voce. Provate tutto sul blog di Pandora, il link al video della serata e anche le foto che Marco Zanini ci ha scattato durante l'ora di spettacolo. Insomma, se volete capire cosa può fare Pandora alle storie del vaso, allora vi consiglio di dare un'occhiata alle diverse pagine del blog, credo che ne valga la pena. E credo anche che sia arrivato il momento di dare inizio alla nostra nuova puntata che ha come protagonisti un'attrice, Emanuela Laura Camozzi, un autore, William Saroyan, una storia, un romanzo dal titolo La Commedia Umana. Io ho conosciuto Emanuela forse un paio d'anni fa, sono stata ad assistere ad un suo spettacolo, Piccolo vento e le quattro stagioni, in un piccolo teatro di Verona, uno spettacolo dedicato ai bambini, è vero, ma erano molti gli adulti in sala e questo la dice lunga. Mi piacque moltissimo la storia, la messa in scena e la performance della protagonista, Emanuela ovviamente. Era veramente leggera e toccante su quel palcoscenico e mi portai a casa una bellissima sensazione che mi durò per giorni, credo che la mia parte bambina gliene sia ancora grata. Insomma, dopo un paio d'anni mi sono ritrovata davanti a Emanuela per chiedere di far parte di Pandora alle storie del vaso, grazie ad una nostra comune amica, Lina Coppola. Emanuela con quel suo inconfondibile sorriso, una smorfia bambinesca e un abbraccio stretto mi disse immediatamente di sì. Ci siamo messi alla ricerca di una storia che potesse avvicinarsi alla sua indole, che è sognatrice, sbarazzina e molto tenera e siamo arrivati insieme ad una conclusione ovvia. Quindi la commedia umana di Saroyan. Ammetto che è uno dei miei romanzi preferiti in assoluto, per molti buoni motivi, ma tra questi c'è sicuramente quel sentimento innocente, tenero, sincero e disarmante, che l'autore ha saputo infondere a ogni pagina, ogni episodio, ogni personaggio che anima questa storia. William Saroyan è uno scrittore americano nato nel 1908 a Fresno, di origini armene, fu soldato semplice nella prima guerra mondiale. Esordì nel 1933 scrivendo per Airenik, un settimanale armeno di Boston, e nel 1939 addirittura rifiutò il premio Pulitzer per il suo pezzo The Time of Your Life. Il successo per lui fu comunque enorme, grazie ai racconti che compongono il suo romanzo The Human Comedy, la commedia umana appunto, del 1943. La commedia umana è ambientata negli anni della seconda guerra, 1942 per la precisione, in un'America che ha ancora un buon carnet di umanità sana, onesta, capace di grande generosità, di pur intenti, a cui far fronte quando i tempi si fanno duri. Saroyan ci racconta la vita di un villaggio californiano, Itaca, e dei suoi abitanti, dell'ufficio del telegrafo, della scuola e della famiglia McCauley, Marcus, Bess, Omer, Ulisses e la signora McCauley. Il signor McCauley è morto da due anni. Marcus, il maggiore dei figli, è stato spedito al fronte per combattere una guerra che non capisce. Bess vuole lasciare l'università e mettersi a lavorare per aiutare la famiglia. Omer ha iniziato a lavorare all'ufficio del telegrafo e sta crescendo in fretta. Ulisses è ancora piccolo, ha solo quattro anni, ma promette di diventare una persona speciale, così come tutti i suoi figli, pensa la signora McCauley. Ed è così. Questi ragazzi sono davvero il meglio che la società americana ha in servo per il paese e William Saroyan ci racconta la loro storia. Desideri, difficoltà, piccole gioie, grandi dolori, scelte e speranza di persone normali, persone per bene, che sanno accettare la vita così com'è. A dire il vero, ogni volta che rilego queste pagine provo lo stesso coinvolgimento della prima volta e ogni volta che arrivo alla fine spero in un finale diverso. Ma ora vi lascio alla voce di Emanuela, che leggerà per voi sette brevi racconti della Comedia Umana. Siamo sicure che vorrete poi leggere il resto, ed è questo che un buon libro può fare. Quindi vi auguro con tutto il cuore un buon ascolto. La Comedia Umana, di William Saroyan. Quel bambino, di nome Ulisses McCauley, un giorno se ne stava a guardare il buco della talpa nel giardino dietro casa, in Santa Clara Avenue, a Itaca, California. La talpa mucchiava a terra fuori dalla nuova tana e spiava il bambino, un estraneo per lei, anche se non un nemico vero e proprio. Prima che l'incantesimo svanisse, uno degli uccellini di Itaca era volato verso il vecchio Noce, nel boschetto, e dopo essersi posato su un ramo si era messo a far baccano, un po' a modo suo, spostando l'attenzione del bambino dalla terra all'albero. Un treno maerci, la cosa più notevole, sbuffava e sferragliava in lontananza. Il bambino rimase ad ascoltare, sentiva la terra tremare sotto di lui per il movimento del treno. Poi si era messo a correre, sempre più svelto, più veloce di chiunque altro al mondo, anzi, ne era convinto. Raggiunto l'incrocio, fece appena in tempo a vedere il treno tutto intero che passava, dalla locomotiva all'ultima carrozza. Fece un saluto al macchinista, ma il macchinista non rispose. Salutò altri cinque tizi sul treno, e non uno di loro gli rispose. Avrebbero potuto ricambiarlo, ma non lo degnarono nemmeno di un cenno. Alla fine apparve un nero che si sporgeva sul fianco di un carro merci. In mezzo al frastuono del treno, Ulisse sentì l'uomo che cantava. Amore mio, non piangere, oggi non pianger più, cantiamo la vecchia casa, lontana, lontana laggiù. Ulisses provò a salutare anche lui, e a quel punto accadde un fatto inatteso e sorprendente. Quel uomo, nero, diverso da tutti gli altri, rispose al saluto di Ulisses. Torno a casa, proprio a casa mia. Il bambino e nero continuarono a mandarsi saluti finché il treno non fu del tutto fuori vista. Poi Ulisses si guardò intorno. Tutto gli appariva strano, affascinante quanto senza logica. Era il suo mondo. Strano, pieno di erbacce e spazzatura, ma bello. Un vecchio, con una balla sulle spalle, stava avvicinandosi lungo la ferrovia. Ulisses salutò anche lui, ma l'uomo era troppo vecchio e troppo stanco per dar confidenza a un ragazzino. Si limitò a lanciargli un'occhiata, come se tutti e due fossero già morti e sepolti. Il bambino girò lentamente su se stesso e si avviò verso casa. Incamminandosi sentiva ancora l'eco del treno, del nero che cantava, l'eco delle sue parole gioiose. Torno a casa, proprio a casa mia. Poi smise di riflettere e vicino a un nespolo si mise a prendere a calcio i frutti marci e giallastri. Fece quel sorriso alla Mekuley, quel sorriso gentile, saggio, un po' enigmatico che diceva buongiorno a tutto. Quando svoltò l'angolo e vide casa Mekuley, Ulisses cominciò a saltellare battendo i piedi in volo. Questo lo fece inciampare e poi cadere, ma un istante dopo era di nuovo in piedi e si rimise in marcia. Sua madre era in cortile, gettava becchime e polli. Aveva visto il figlio correre, saltellare, inciampare e volare a terra. Lui era arrivato tranquillo e sicuro, buttando un occhio al cesto delle uova di gallina accanto a lei. Si fermò un istante, poi prese un uovo e lo porse a sua madre con cura estrema. Voleva esprimerle qualcosa che un adulto non saprebbe immaginare, né un bambino saprebbe descrivere. Suo fratello Homer sedeva sul sellino di una bicicletta di seconda mano, che affrontava grintosamente lo sporco della via di campagna. Homer Mekuley indossava una divisa da possino a dir poco gigantesca per lui e un berrettino microscopico. Il sole stava andando giù nella sonnata pace serale, così amata dalla gente di Itaca. Orti, vigneti si stagliavano accanto al nostro bravo messaggero della vecchia terra di California. Anche se procedeva tutta birra, Homer non era lontano dal perdersi la minima sfumatura della bellezza di quella regione. «Guarda un po' voli», diceva rivolto alla terra e alle piante, alle vigne, al sole e alle nuvole. «Guarda, guarda, che ne dici?». Procedendo con la bicicletta ricamava le impronte e si accompagnava con una musichetta dall'aria lirica, semplice e un po' ridicola. Il tema di quell'opera era composto, nella sua mente, dagli archi di un'orchestra. Sua madre all'arpa e sua sorella Bess al pianoforte. Completava il quartetto familiare una fisarmonica con un tema vagamente umoristico, che a Homer ricordava il fratello Marcus. La musica di Homer fu annientata dal rumore di tre oggetti incredibili che attraversavano il cielo. Il messaggero sollevò lo sguardo verso gli aeroplani e finì lungo e disteso nel fosso accanto alla strada. Il cane del fattore arrivò come un fulmine, con un'aria di grande importanza, abbaiando come se avesse un messaggio urgente da consegnare. Ma Homer lo ignorò, rimbottò la bestia con un woof woof e si rimise in sella ripartendo a razzo. Quando raggiunse la zona residenziale, oltrepassò senza leggerlo un cartello. Itaca, California, Ovest, Est, Home is best, benvenuto forestiero. All'incrocio successivo si fermò a guardare un lungo corteo di mezzi militari, pieni di soldati. Salutò come aveva fatto il fratello con il macchinista e gli hobs. Una grande quantità di soldati restituirono il saluto del messaggero. Non dovevano, forse? Che ne sapevano quelli del mondo? Era sera a Itaca, quando Homer giunse finalmente di fronte all'ufficio del telegrafo. L'orologio alla finestra segnava le sette e due minuti. Il telegrafo stava attichettando. Il signor Groguen rispose alla chiamata e prese posto alla tastiera, ma ricominciò a parlare. Mi è perso di sentirti dire prima che una volta cantavi nel coro della scuola. Saresti così carino da cantarmi una canzone mentre trascrivo questo messaggio da Washington, D.C.? Homer si mise a cantare Rock of Change mentre Groguen batteva il telegramma. Era indirizzato a Rosa Sandoval, 1129 G Street, Itaca, California. Nel telegramma il ministero della difesa informava la signora Sandoval che il figlio, Juan Domingo Sandoval, era morto sul campo. Groguen tese il messaggio a Homer, poi diede una bella sorsata alla bottiglia a fianco alla sedia. Homer piegò il telegramma, lo mise in una busta, la chiuse, la infilò nel cappello e lasciò l'ufficio. Una volta uscito il ragazzo, il vecchio telegrafista si schiarì la voce e si mise a sua volta a cantare Rock of Change. Anche lui era stato giovane, come tutti. Si sentiva della musica a casa McCooley. Mary Arena entrò nel salotto dalla casa di fianco e si mise vicino a Bess, al piano, cominciando ben presto a cantare. Cantava per Marcus, che per lei era il mondo. Il piccolo Ulisse ascoltava e guardava. C'era qualcosa di strano in tutto questo. Avrebbe voluto capire esattamente di che si trattava, anche se era mezzo addormentato. Alla fine raccolse abbastanza energie per chiedere «Dov'è Marcus?» «Marcus è con l'esercito», disse la signora McCooley. «Quando torna a casa?» «Quando finisce la guerra?» «Domani?» «No, non domani». «Quando?» «Non lo sappiamo. Bisogna aspettare». «E allora dov'è il mio papà?» chiese Ulisses. «Se aspettiamo tornerà pure lui come Marcus, no?» «No, non è così. Non camminerà lungo la strada per entrare in casa dalla veranda. Come un tempo». Era troppo per il bambino e avendo disposizione una sola parola per chiedere conforto, speranza la disse. «Perché?» «Due anni fa tuo padre è morto, Ulisses. Ma finché siamo vivi, finché siamo tutti insieme, finché rimarremo almeno in due e lo ricorderemo, nessuno può portarcelo via». Il ragazzo rimase a pensarci su un po'. Poi gli venne in mente quel che aveva visto poco prima, quel giorno. «Che cosa sono le talpe?» chiese. Sua madre non era impreparata a una domanda del genere. Sapeva che aveva degli occhi, occhi, occhi curiosissimi e anche un grande coraggio, la capacità di amare e la voglia di capire. «Dividono con noi questa terra. Hanno vita propria, come noi. Sono parte di noi, di tutto quanto vive». «Bene, e dov'è Homer?» disse Ulisses. «Ieri si è trovato un lavoro dopo la scuola. Sarà casa verso mezzanotte, quando tu dormirai già da tempo». Ulisses si sforzava di stare sveglio, ma proprio non ci riusciva. La signora McCoolie spostò lo sguardo verso la sorella del piccolo, Bess. «Mettilo a letto». Bess e Mary portarono il bambino in camera sua. Quando se ne furono andate e la signora McCoolie si sedette, ebbe l'impressione di sentire il rumore di un passo e si girò. Le parve di vedere Matthew McCoolie vicino alla porta, come se avesse ripreso vita in Ulisses, e non fosse un adulto morto da così poco tempo, eppure da tanto. Il messaggero smontò dalla bicicletta di fronte alla casa della signora Sandoval. Bussò delicatamente alla porta. Capì quasi subito che c'era qualcuno in casa. Pur non sentendo alcun rumore, avvertiva un movimento verso la porta, ed era ansioso di scoprire chi fosse questa persona, questa donna di nome Rosa Sandoval. Non si fece attendere, ma si muoveva con una certa calma, come chi non ha nulla da temere al mondo. Poi si aprì la porta, e lei era lì. Homer la trovò bella. Evidentemente la sua vita era fatta di paziente attesa, così ora, dopo anni e anni, le sue labbra erano atteggiate al sorriso. Ma come tutte le persone, che non ricevono mai telegrammi, vedeva con sospetto la comparsa di un postino alla porta d'ingresso. Homer si rendeva conto di averla spaventata. Per prima cosa lei disse, oh, in segno di sorpresa, come se al suo posto si aspettasse di trovare una vecchia conoscenza da accogliere con piacere. Scrutò Homer negli occhi, e Homer capì che lei aveva capito che non si trattava di buone notizie. Non era colpa sua, aveva il compito di consegnare telegrammi, eppure era pronto a farsi interamente carico dell'accaduto. Nello stesso tempo avrebbe voluto tirarsi indietro e dire, sono soltanto il portalettere, signora Sandoval, mi dispiace molto doverle portare un telegramma come questo, ma è il mio compito, il mio lavoro. La signora Rosa Sandoval G Street 1129? chiese Homer. Forse il telegramma alla messicana, ma lei si ritrasse. E lei la signora Sandoval? Per favore, per favore, vieni dentro. Si fermò un istante a osservare il ragazzo, che pur essendo entrato in casa restava il più possibile vicino alla porta. Per favore, chiese. Cosa dice il telegramma? Signora Sandoval, dichiarò il messaggero. Il telegramma dice... Ora fu la donna a interromperlo. Ma tu devi prima aprire il telegramma e poi leggermelo. Non l'hai aperto? Si signora, rispose Homer come davanti a un insegnante che l'avesse appena ripreso. Apri nervosamente il telegramma. La donna ferrò la busta stropicciata chiedendo... Chi ha mandato il telegramma? Mio figlio Joan Domingo? No, signora, il telegramma viene dal Ministero della Difesa. Ministero della Difesa? ripete la messicana. Signora Sandoval, mormorò Homer. Suo figlio è morto. Forse c'è un errore. Magari non si tratta di suo figlio. Forse qualcun altro. Il telegramma parla di Joan Domingo. Però può esserci un errore. Sembrava che la donna non sentisse. Oh, non avere paura, disse. Entra, ti porto dei dolcetti. Prese il ragazzo per il braccio e lo fece sedere al tavolo, al centro della stanza. Tutti i ragazzi amano i dolcetti. Sparì in un'altra stanza e riapparve con una vecchia scatola di cioccolatini. Homer si trovò davanti ai dolcetti dall'aspetto strano. Ecco, disse la donna, mangia questi dolci. Tutti i ragazzi amano i dolci. Homer prese un dolce dalla scatola, lo mise in bocca e tentò di masticare. Non dovresti portarmi cattivi telegrammi? Mentre la donna parlava, Homer masticava il dolce secco. È un nostro dolce tipico, un dolce di cactus. Poi lei cominciò a emettere leggeri sospiri, trattenendosi, come se non stesse bene piangere. Homer provò il desiderio di alzarsi e scappare, mentre sapeva che sarebbe rimasto. Forse sarebbe rimasto lì per il resto della sua vita. Semplicemente non sapeva cos'altro fare per rendere la donna meno infelice. Se lei gli avesse chiesto di prendere il posto di suo figlio, non avrebbe saputo come rifiutare. Si alzò in piedi, in cerca di un rimedio all'irrimediabile. Capì quanto fossero assurde le sue intenzioni, si sentì più depresso che mai. Dentro di sé non faceva che chiedersi, cosa posso fare? Cosa diavolo posso fare io? Non sono che il porta lettere. Improvvisamente la donna lo prese tra le braccia dicendo, il mio bambino, il mio bambino. Senza capire perché, sopraffatto come era da tutta la vicenda, si sentì male, gli veniva da vomitare. Non era infastitito dalla donna. Quello che gli stava succedendo appariva così ingiusto, insensato, che non era neppure sicuro di voler continuare a vivere. Vieni, diceva lei. Siediti qui. Lo spinse di forza su un'altra sedia e gli si piazzò di fronte. Lasciati guardare. Lo guardava in modo strano. Il messaggero, completamente sconvolto, non riusciva neppure a muoversi. Non provava né amore né odio, piuttosto qualcosa di simile al disgusto. Nello stesso tempo sentiva un'enorme compassione, non soltanto per quella povera donna, ma per tutte le cose, per il loro modo atroce di consumarsi e morire. La immaginò nel passato. Una bella, giovane donna seduta accanto alla culla del suo bambino. La vide china su quella stupefacente creatura umana, inerme, senza parole e aperta al futuro. La vide dondolare la culla e la sentì cantare al suo bambino. Guardala ora, si disse. Di colpo era sulla bicicletta. Pedalava energicamente lungo la strada buia con le lacrime agli occhi, imprecando sommessamente. Una volta all'ufficio postale, le lacrime erano finite, ma tante altre cose si erano messe in moto e certamente non si sarebbero fermate. «Altrimenti, tanto varrebbe che fossi morto anch'io!» gridò, come se si rivolgesse a qualcuno duro d'orecchi. Seduta sulla vecchia sedia a dondolo, nella veranda di casa in Santa Clara Avenue, la signora McCuley aspettava il suo figlio che tornasse a casa. Comparve dopo poco mezzanotte. Era stanco e assonnato, e al tempo stesso nervoso e inquieto. Sapeva che avrebbe parlato con tono sommesso, come era stato sommesso il tono di suo marito, il padre del ragazzo. Omer si trattenne a lungo nella stanza buia, senza far nulla. Poi, invece di venire al dunque, disse «Va tutto bene? Non voglio che tu stia qui seduta ogni notte!» Dopo una pausa ripetè «Va tutto bene?» «Lo so», rispose la madre. «Ora siediti!» Sprofondò nel tentativo di sedersi su una poltrona rigonfia. La madre sorrise. «Allora?» disse «Lo so che sei stanco, ma si vede che sei anche preoccupato. Cosa c'è?» Dopo aver esitato, iniziò a parlare precipitosamente, ma con voce ferma. «Ho dovuto consegnare un telegramma a una signora in G Street», disse. «Era una donna messicana». Si fermò di colpo e si alzò in piedi. «Non so come dirtelo. Il fatto è che...» Insomma, il telegramma veniva dal Ministero della Difesa. Suo figlio... Suo figlio era morto, ma lei non ci voleva credere. Semplicemente non ci voleva credere. Non avevo mai visto una simile reazione. Mi ha offerto un dolce, un dolce di cactus. Si è aggrappata a me dicendo che ero suo figlio. L'aiutasse o no, non mi importava. Non mi importava neppure del dolce». Si interruppe di nuovo. Continuava a guardarmi come se fossi suo figlio. Per un attimo non ero più sicuro di non esserlo. Mi sono sentito talmente male. Quando sono tornato in ufficio, il vecchio telegrafista e il signor Groguen era ubriaco, proprio come aveva previsto. Ho fatto quello che mi aveva detto di fare, spruzzato lì l'acqua in faccia e gli ho portato una tazza di caffè per tenerlo sveglio. Se non lavora come si deve, lo mandano in pensione. E lui non vuole. Gli ho fatto passare la sbornia. Ha fatto il suo lavoro per bene. Poi abbiamo cantato. Gironzolava per la stanza in silenzio, ripresa a parlare in piedi sulla porta, distogliendo lo sguardo dalla madre. «All'improvviso mi sento diverso, come non mi ero mai sentito prima. Non mi sono sentito così neppure quando è morto papà. Tutto mi è sembrato cambiato in questi due giorni. Mamma, mi sento solo e non capisco perché». La madre taceva, aspettando che lui andasse avanti. «Non capisco cosa stia succedendo o perché succede. In ogni caso non è giusto. Non è giusto che qualcosa possa ferirti così». La donna voleva lasciarlo finire. Visto che lui taceva, cominciò a parlare. «Tutto è cambiato per te. In realtà è tutto come prima. Hai sentito la solitudine perché non sei più un bambino. Ma il mondo è sempre stato pieno di questa solitudine. Se dovesse arrivare a me il messaggio che ho ricevuto la messicana, non so dirti cosa farei. Non lo so». Si fermò e dopo un momento continuò quasi allegramente. «Cosa hai mangiato a cena?» «Torta», disse Omer. «Mele e crema al cocco. Ha offerto il capufficio, il tipo più forte che abbia mai incontrato. Manderò Bess domani con la cena. Non voglio nessuna cena. Ci piace uscire a comprare qualcosa e sederci insieme a mangiare. Non stare a preoccuparti della cena», riflettè. «Questo lavoro è la cosa migliore che mi sia mai capitata. Sembra quasi ridicolo andare a scuola». «Certo», disse la signora McCooley. «Le scuole servono solo a tenere i ragazzi lontano dalla strada. Ma presto o tardi i ragazzi per strada ci devono andare. Che lo vogliano o no?» «È naturale che le madri e i padri si preoccupino per i loro figli. In realtà non c'è nulla da temere. Il mondo è pieno di bambini spaventati che si spaventano a vicenda. Cerca di comprendere», proseguì. «Cerca di amare le persone che incontri. Ti aspetterò qui ogni notte. Ma non occorre che tu venga a parlare con me se non ne hai voglia. Capirò. So che ci saranno momenti in cui non ti sentirai di parlare». Si fermò a guardare suo figlio. «Sei stanco? Vai a dormire adesso», disse la signora McCooley. «Va bene», rispose il ragazzo e andò in camera sua. Quel sabato fu uno dei giorni più lunghi e ricchi di eventi della vita di Homer McCooley. Piccoli dettagli iniziarono ad acquistare importanza e diventare comprensibili. Il sonno dell'ultima notte, piuttosto sofferto e agitato, ora era parte della sua vita reale. Aveva tentato in tutti i modi di evitare che il messaggero della morte raggiungesse Itaca e i suoi abitanti. Lo aveva sognato, ma ora questo sogno non era più reale. La lettera di suo fratello Marcus si trovava nella tasca della sua divisa azzurra di portalettere, in attesa di essere aperta e letta. Entrò nell'ufficio del telegrafo zoppicando. Era stanco e ansioso di riposarsi. Guardò il foglio delle chiamate. Vide che non ce n'erano. Guardò la casella dei telegrammi. Nessuna consegna da fare. Tutto chiaro. Si accostò al vecchio telegrafista e chiese. Signor Gruggen, che ne direbbe di fare colletta per due pezzi di torta di due giorni? Mele e crema al cocco? Partecipo volentieri, ragazzo mio, ma non ho voglia di mangiare. Grazie lo stesso. Se non ha voglia di mangiare, signor Gruggen, neppure io ne ho voglia. Pensavo che potesse aver fame. Io non ho fame per nulla. Non ho avuto un attimo di respiro in tutto il giorno, ma non ho fame. Sembra strano. Uno penserebbe che un ragazzo che lavora tutto il giorno la sera muoia di fame, ma non è sempre così. Come va la gamba? Non c'è male. Più che altro non ci penso. Me la cavo benissimo lo stesso. Guardò con curiosità l'uomo anziano, poi chiese con garbo. È per caso ubriaco, signor Gruggen? Parlava seriamente e il vecchio non rimase offeso o contrariato. Sì, ragazzo mio. Il signor Gruggen si avvicinò alla sedia e si accomodò. Dopo un momento guardò Homer in piedi al di là del tavolo. Mi sento molto meglio quando bevo. Poi tirò fuori la bottiglia e beve un bel sorso. Non ti consiglierò certo di evitare di bere. Non ti dirò mai come fanno molti vecchi pazzi. Impara da me. Guarda cosa succede quando si beve. In questi giorni sei andato parecchio in giro. Hai scoperto molte cose mai viste prima. Ecco, lascia che ti racconti una cosa a proposito della gente. Stai molto attento. Se vedi qualcosa che ti sembra proprio sbagliato, non esserne del tutto certo. Se si tratta di persone, stai attento. Io ti rispetto, quindi è giusto che ti dica che non è sempre il caso di criticare il comportamento degli altri. Quanto più un uomo si avvicina alla fine dei suoi giorni, tanto più è capace di apprezzare le persone che gli sopravviveranno. Capisci quello che voglio dire? Non ne sono sicuro, signor Gruggen. Non riuscirei a parlarti così se non fossi ubriaco. È questo che ti voglio dire. Sii contento di te. Sii riconoscente. Cerca di comprendere l'importanza di essere contenti di come si è. Sii contento, perché godrai della fiducia di persone del tutto sconosciute. Di nuovo Homer tornò in mente la ragazza dell'hotel, l'urgenza con cui gli aveva parlato, come un amico fidato. La gente se ne rende conto. Non li tradirai, non farai nulla contro di loro, non li disprezzerai. Vedrai loro tutto quel che gli altri non sono stati capaci di vedere. Devi esserne consapevole, senza imbarazzo. Sei un uomo di 14 anni. Non so che ha fatto di te una persona così, ma sappi che devi esserne contento. Mi capisci? Il messaggero dei gluti. Credo di sì, signor Grogan. Bene, ti ringrazio. Cos'è lì in mano? Una lettera? Ho finito. Fai quel che stavi facendo. Leggi la tua lettera, ragazzo. È di mio fratello Marcus. Non ho ancora fatto in tempo ad aprirla. Bene, allora. Leggi la lettera di tuo fratello. Leggila ad alta voce. Ad alta voce? Sì, mi farebbe piacere sentirla. Se posso. Molto. Omer aprì la busta, estrasse la lettera, la dispiegò e iniziò a leggerla parlando molto lentamente. Caro Omer, intanto tutto quel che c'è di mio a casa è tuo. Da dare a Ulisses quando sarai stufo. I miei libri, il mio grammofono, i miei dischi, i miei vestiti non appena ti andranno bene. La mia bicicletta, il mio microscopio, la mia canna da pesca, la mia collezione di pietre e di piedra e ogni altra mia cosa ti appartengono. Perché in casa me culei ora sei tu l'uomo. I soldi guadagnati l'anno scorso nello scatolificio li ho consegnati a mamma, si capisce, per dare una mano. Ma non è affatto sufficiente. Non so come farai a tirare avanti la famiglia e andare al liceo, ma sono certo che troverai un modo. La paga che mi danno qui nell'esercito va a mamma, a eccezione di qualche dollaro che tengo per me, ma anche questi soldi non bastano di sicuro. Non è facile per me chiederti così tanto quando io stesso ho cominciato a lavorare solo a 19 anni, ma credo che in qualche modo sarai in grado di fare quel che io non ho fatto. Mi manchi tanto. Ti penso sempre. Sto bene, e anche se non ho mai creduto nelle guerre, so bene quanto siano folli anche quando sono necessarie. Sono orgoglioso di esservi coinvolto dal momento che in tanti altri lo sono e questo è quel che sta accadendo. Non riesco ad accettare l'idea che esistano dei nemici, perché nessun essere umano può essermi nemico. Un essere umano, chiunque sia, lo considero amico. Il mio conflitto non è con lui, ma con quella parte sfortunata di lui che prima di tutto sono costretto a distruggere in me stesso. Non mi sento certo un eroe. Non sono fatto per simili sentimenti. Non odio nessuno e neppure provo spirito patriottico, anche se ho sempre amato la mia terra, la sua gente, le sue città, la mia casa e la mia famiglia. Preferirei non fare parte dell'esercito. Preferirei non ci fosse più la guerra. Non ho l'idea di cosa sarà, ma comunque vada, sono rassegnato a ciò che deve accadere e sono pronto. Sono molto spaventato, questo te lo devo dire, ma credo di dover fare quel che è giusto quando è il momento. Non devo far altro che obbedire alla mia coscienza. Con me ci saranno giovani di ogni parte dell'America, da migliaia di città come Itaca. Potrebbero uccidermi, certo. Lo sappiamo tutti. È un'idea che non mi piace per niente. Più di ogni altra cosa al mondo vorrei ritornare a Itaca. Voglio ritornare per Mary, per avere una mia casa, una mia famiglia. Partiremo presto. Andremo in prima linea, anche se nessuno sa dove. Quindi questa potrebbe essere la mia ultima lettera per qualche tempo. Spero che non sia l'ultima in assoluto, ma se fosse così dobbiamo restare uniti. Ho raccontato al mio amico Tobey George di Itaca e della nostra famiglia. Spero di portarcelo un giorno. Sono fiero di essere il meccule che rappresenta la nostra famiglia in questa guerra. E sarebbe un peccato. Sarebbe sbagliato se toccasse a te. In una lettera posso dire cose che non direi mai a voce. Sei il migliore dei mecculei. Niente deve fermarti. Ora scriverò il tuo nome qui per ricordartelo. Omer Mecculei. Sei tu. Mi manchi. Non vedo l'ora di rivederti. Che Dio ti benedica. È tutto. Tuo fratello Marcos. Leggendo questa lettera il messaggero si sedette. Leggeva molto lentamente. Provando spesso un forte malessere. Come in casa di quella mamma messicana. Si alzò. Le mani gli tremavano. Si morse le labbra e guardò l'anziano telegrafista. Parlava con dolcezza. Se mio fratello rimarrà ucciso in questa stupida guerra. Sputerò su questo mondo. Odierò il mondo e per sempre. Delle lacrime apparvero sul suo volto. Si affrettò verso l'attaccapanni accanto alla stazione radio e si tolse l'uniforme rimanendo con i suoi vestiti normali. Uscì di corsa dall'ufficio che non si era né ancora ben sistemati. L'anziano telegrafista rimase a lungo a riflettere. C'era una grande pace quando si scosse. Finì il resto della bottiglia. Si alzò e si guardò attorno. Riprendo le redini, di nuovo qui nel vaso di Pandora, dopo questa galloppata nel mondo umano e toccante di William Saroyan. Bello vero? È la forza di personaggi che vorresti avere accanto, che vorresti rendere reali e concreti per sentirti soltanto un po' più al sicuro. Non posso che aggiungere grazie a Mr. Saroyan, ovunque tu sia, e grazie a Emanuela Laura Camozzi che ci ha fatto attraversare queste pagine con leggerezza e intensità. Emanuela che ha una grande passione per il Brasile e che ha scelto di vivere in quella splendida terra per i prossimi tempi. A noi che restiamo qui sicuramente ci mancherà lei e le sue ali da farfalla, ma sappiamo che sarà felice, quindi anche noi lo stiamo per lei. Buona fortuna Emma. Bene, vi ricordo l'indirizzo del nostro blog, pandoralesoriedelvaso.wordpress.com e vi invito a farci un giro di tanto in tanto per scoprire le novità che abbiamo in servo per voi. Se volete lasciare dei commenti sarà per noi un piacere leggervi e rispondervi in presa diretta. Un ringraziamento speciale a Simone Pizzi per l'editing e a IPN Italian Podcast Network per l'ospitalità. Grazie a Emanuela Laura Camozzi per essere stata parte di Pandora le storie del vaso. Grazie a voi che vi siete fermati nel vaso con noi. Spero che questa terza puntata vi sia piaciuta. L'appuntamento di sabato 15 settembre 2012 riguarda il terzo e il PIS non è una storia. Invece la quarta puntata di Pandora le storie del vaso vi aspetta online il primo sabato di ottobre, ovvero il 6 ottobre 2012. A presto Fox, buone cose a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.